Il Dio Il Dio Il Dio Il Dio Papà Lorenzo come ti senti? Meglio? Il Dio Il Dio Il Dio Da quando è che non vi parlate? Quando è morta mamma, eh? Ma tu sai che lui aveva un'altra? Buongiorno Ma perché ci abita qualcuno lì? Qua ci abita da solo con tutta la sua famiglia Che gli porti su qua la spesa? Che controllo se ha preso le medicine? Si veniva a prendere Francesco Nelle ore di lezione Alle mie spalle Avete visto che è successo stanotte? Ma cosa è successo? A voi non mi riguarda Ma tu non sei nemmeno uno di famiglia Non pensi male di Fabio per l'altro giorno Zorichitano Vede una coppia Con due bambini Vivono accanto a lui Si affeziona Quello che volevo fare Sono fatti miei Le bambini Vede una coppia Questa è felicità Vedi Rai